Il mio caramato paese, posso parcheggiare anche la mia bici, in bici oggi, è diretta a strada 42, qui per circa un chilometro. Mi sono al comunico di Marzi, pruncio dell'Aquila, regione Abruzzo. La giornata è nevolosa, sicuramente continuerà a piovere, forse non molto, non lo so. Stasera saprò di certo l'acqua che ci sarà. Beh, l'acqua non troppa, comunque fa bene per gli agricoltori. Meglio l'acqua, non ha troppa siccità, non ha troppa siccità, non crescono i ortaggi. No, diciamo che il 60% dei terreni sono stati seminati e l'acqua urge. La siccità fa sempre male. Allora, stanotte mi sono svegliato, come al solito, verso le due di notte. Quindi il mio passatempo di notte è legge. Poi sono uscito da casa verso le nove. Sono andato un po' all'orto. Adesso vado sotto, faccio una visita alle porticine e poi vado al mio orto. Entro questa settimana, secondo il mio programma, sono pensionato e quindi posso organizzarmi. Dovrei andare al Zomblo Schioppo da Moreno. Bis morgeno. Ciao!